La graziadella propria Signorino sono Ambrogio Martinelli oriundo milanese posso invitarla a San Tropez? Ma come noi arriviamo e vuoi andare? Guarda che bel tocco di potea Abbona! E le cosci meglio di Altafibi Ho detto San Tropez Venga a fare il soldato da noi 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 Tanto qui non c'è bisogno di eroi L'unica guerra è l'amore Signor sì! Una caserma ed un cuore Signor sì! Renze! Grazie a tutti!